Oh, scusate, ritorno in onda solo per un messaggio di carattere tecnico. Il miscappa alla diretta di oggi è durato troppo, è durato 15, cioè ha superato i 15 minuti. Quindi non troverete la copia del video, della registrazione, su YouTube. Ok? Chiedo scusa, ma c'è purtroppo questo problema tecnico, diciamo. Nonostante il mio account YouTube non abbia il limite dei 15 minuti, però la connessione fra Ustream, dalla quale mando questa diretta, a YouTube ha questo vincolo. Il video non deve superare i 15 minuti per poter essere pubblicato anche su YouTube. Quindi il miscappa alla diretta che ho appena fatto prima sarà visibile come registrazione solamente sul canale Ustream e non sul canale YouTube. Ok? Vi chiedo scusa, ma il motivo è questo. perché purtroppo sono molto logorroico e la durata ha superato i 15 minuti. Adesso è tutto, a presto, ciao, ciao, ciao.